Il pendolo balistico. Il pendolo balistico è uno strumento utilizzato per misurare la quantità di moto di un proiettile. È costituito da un blocchetto di legno appeso a un filo di massa trascurabile. Il proiettile viene sparato contro il blocco di legno perpendicolarmente al filo e si conficca nel blocco stesso. Dopo l'urto, il blocco e il proiettile si muovono insieme raggiungendo una determinata altezza massima. Nel pendolo balistico avvengono due distinti processi fisici. Il primo è un urto anelastico tra il proiettile e il blocco. Si conserva quindi la quantità di moto del sistema. Dopo l'urto, l'energia cinetica del sistema viene trasformata in energia potenziale gravitazionale che determina l'altezza raggiunta.